buonasera a tutti oggi prepariamo un piatto facilissimo e buonissimo carne con le prunie serve un po di curcuma pepe morosia zenzero sale e un po di zafferano pistille di zafferano mettiamo un po d'acqua di zafferano due spicchi taglio diamo la carne lasciamo marinare un'ora minimo un'ora per prendere il gusto di spezie copriamo lasciamo riposare un'ora mettiamo la carne alla pentola senza olio l'olio dopo senza olio prende gusto di più tagliamo la cipolla grazie a tutti grazie a tutti allora metto un po d'olio d'oliva grazie a tutti con il vapore non si vede bene aggiungo un po d'acqua e chiudo lascio cuocere dipende di carne ora metto le prunie le faccio cuocere dipende di carne e faccio cuocere dipendere con un po d'acqua ora metto un po d'acqua e faccio cuocere dipende di carne e faccio cuocere dipendere con un po d'acqua alle prunie e metto un po di cannella e un po di miele questo piatto è dolce e allo stesso tempo salato miele un cucchiaio di miele c'è che mette anche zucchero noi non possiamo mangiare lo zucchero solo miele miele bio ora faccio ora faccio camelizzare le prunie camelisei il piatto è pronto noi serviamo un piatto grande grande col miele prende la carne un colore dorato marrone e il gusto è buonissimo ora metto le prunie ho messo cannella e pure miele ho messo per l'uovo per decorare il piatto ok se vi piace il video mi lasciate un like e un commento e grazie al prossimo video e poi